Buon venerdì e ben ritrovati al primo appuntamento con l'informazione sulla C-News, la nostra consueta marassegna stampa, in primissimo piano ancora la politica questa mattina perché il governatore Mario Oliverio è alle prese con il nodo giunta. Ieri parole dure sono arrivate dal Presidente della Regione, rispetto al caso De Gaetano non accetto da nessuno lezioni di legalità ha chiarito Oliverio, poi l'incontro a Roma con Renzi, intanto oggi dovrebbe essere il giorno delle dimissioni di Maria Carmela Lanzetta da Ministro Il Giallo sul caso dell'ex sindaco di Monasterace che non accetta di entrare nell'esecutivo regionale proprio per la presenza di De Gaetano, resta tutto da risolvere. Dettagli sull'operazione contro i clan in Emilia emergono questa mattina le strategie delle cosche per evitare le interdittive antimafia. Allora andiamo sulla prima pagina del Quotidiano del Sud, partiamo proprio da questa notizia, vedete il titolo in alto. I clan in Emilia, la strategia contro le interdittive antimafia, un patto per favorire le imprese di Cutro, i ruoli attribuiti all'imprenditore Iaquinta e al consigliere Reggiano. Dunque un patto politico siglato in un ristorante per favorire le imprese di Cutro in Emilia, una vera e propria strategia messa a punto per contrastare i no ai certificati antimafia. Lo stionario emerge con chiarezza dalle carte dell'indagine contro il clan di Nicolino Grande Aracri che ha portato all'arresto di 166 persone. Importante il ruolo dell'imprenditore Iaquinta e del consigliere Pagliani. Ancora dalla prima pagina del Quotidiano del Sud c'è la politica, vedete nel cosiddetto taglio centrale, regione, oggi le dimissioni, gli alleati di Oliverio puntano i piedi, allarghi il governo. La lanzetta intanto esce di scena ma resta il giallo, quello odierno dovrebbe essere appunto il giorno delle dimissioni da Ministro per gli Affari Regionali di Maria Carmela Lanzetta. Caso De Masi, sempre dalla prima del Quotidiano, il Tribunale di Reggio, vedete qui il titolo, dirigenti bancari assolti dall'accusa di usura. In basso, ancora dalla prima del Quotidiano della Calabria, Medical Market, ieri gli interrogatori, la madre del bimbo morto alla nascita prova a difendersi, poi crolla, non riesce a sostenere l'interrogatore davanti al GIP, la donna è illegale, dice che è innocente, accusata di aver ucciso il figlio di sette mesi per i soldi dell'assicurazione, insomma questa persona non è poi riuscita a difendersi dinanzi al giudice per le indagini preliminari. Calcio, Catanzaro, i giocatori battono cassa, il Pubblico Ministero, lodi arbitrali truccati. Questa era la prima del Quotidiano del Sud, ora spostiamoci sulla pagina d'apertura del garantista politica in primo piano, Oliverio in pressing su Renzi per salvare De Gaetano, non accetto lezioni di legalità, il Presidente della Regione va in missione dal Premier per sbloccare i venti romani sulla Giunta e spera nell'assemblea del partito prevista per il 6 con l'obiettivo di ricompattare i Democrat, ma la segreteria di Ernesto Magorno traballa. Ancora dalla prima pagina del garantista, vedete il corsivo, i disastri della superiorità morale della sinistra e poi la diaspora grillina giallo sulle dimissioni del Cosentino Molinari. Fotonotizia a centro pagina, sempre dal garantista, mafia e politica, la nuova linea dei pubblici ministeri, meno concorso esterno e più associazione mafiosa. C'è ovviamente un dettaglio che poi non è proprio un particolare, il concorso esterno in associazione mafiosa e l'accusa di associazione mafiosa sono due cose fondamentalmente diverse. Falsa politica, siamo a una nuova indagine, chiesti 12 anni per l'ex consigliere Cherubino, poi sempre dalla prima del garantista ci spostiamo a Castrovillari, Malore durante l'interrogatorio per la mamma accusata di aver ucciso il figlio. Qui siamo ai procedimenti dopo l'inchiesta Medical Market, insomma ai primi interrogatori del GIP. La donna si è sentita male mentre veniva sottoposta alle domande dei magistrati. Queste erano le prime pagine del quotidiano diretto da Sanzonetti, ora spostiamoci sulle pagine interne, andiamo a vedere insieme i dettagli riguardo agli ultimi infernali giorni per l'aggiunto Oliverio, il presidente non arretra, cerca coperture romane, Mario non accetta le elezioni di legalità, poi difende la scelta fatta su De Gaetano, si profila un esecutivo a tre fino al completamento della riforma dello statuto, quindi ad essere estromessa da questo esecutivo sarebbe Maria Carmela Lanzetta che peraltro ha dichiarato nei giorni scorsi di non voler entrare a farne parte. Andiamo a leggere l'attacco di Riccardo Tripepi, sempre dalle cronache del garantista. Stallo nel PD calabrese, dopo 48 ore di panico innescate dalle dichiarazioni di Del Rio su De Gaetano e poi sempre dentro il garantista, ovviamente andiamo a vedere insieme la prosecuzione di questo pezzo, si parla del governatore che scortato dai suoi parlamentari più figli ha avuto modo ieri di scambiare qualche battuta con il Premier durante la mattinata, a margine della riunione avuta per dare le indicazioni sul da farsi ai grandi elettori. Oliverio ha cercato uno scambio con il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, la loro chiacchierata e il loro semiabbraccio hanno fatto rapidamente il giro dei siti, dei social veicolati dai pasdaran del governatore. Chiaro il significato, Mario e Matteo sono ormai una cosa sola, insomma questo è un messaggio importante che arriva al PD calabrese. In tema di legalità avrebbe detto poi Oliverio, io non accetto lezioni da nessuno, si è detto anche sicuro della copertura romana sulle sue decisioni. Queste erano le cronache interne del garantista per quel che concerne il centrosinistro, ora andiamo sull'altro versante, non meno polemico e burrascoso. Polveriera Forza Italia, partito calabrese alla deriva. I bigazzurri aspettano di conoscere gli esiti del testeramento ma il gruppo in Consiglio regionale è spaccato in maniera insanabile. Tallini e Orso Marso accusano di formalismo sospetto Nicolò e i suoi. E poi la polemica che i zoniti a Magorno, la regione parte civile fin dal 1997. L'ex presidente della commissione speciale di vigilanza smentisce il segretario del PD in ordine alla costituzione di parte civile da parte della regione nei processi. Il giallo dell'addio di Molinari, caos anche nel Movimento 5 Stelle. Resta un mistero il documento riservato con la notizia delle dimissioni divulgate anzitempo. Il senatore voleva annunciare la rottura dopo le presidenziali ma è stato costretto ad anticipare. E adesso cambiamo argomento, passiamo agli aborti per denaro. L'inchiesta Medical Market. La russa si sente male e non risponde al giudice per le indagini preliminari. La principale indizietta accusata di aver perso il bambino di proposito per riscontrare l'assicurazione ha avuto un valore durante l'interrogatorio. I legali. Lei non ha richiesto alcun risarcimento. Poi l'inchiesta sul fallimento della campanella chiesto ieri proprio dalla procura di Catanzaro. Questo è un altro fatto di cronaca giudiziaria. Operazione falsa politica. Appunto la mafia e la classe dirigente erano a braccetto. Nessun confine tra politica e criminalità organizzata. Chiesti 71 anni di carcere per i sette imputati che hanno scelto il rito ordinario. Prima pagina catanzarese del garantista. Torniamo ad occuparci della fondazione campanella perché Roma dice no alla cassa integrazione. Chiesto il fallimento. I tecnici ministeriali bocciano la strada degli ammortizzatori sociali. Martina sottolinea. Non licenziamo. Forse c'è il milleproro che si aspetta appunto questo decreto. Intanto dalla procura arrivano le accuse che ipotizzano false comunicazioni sociali. Domani la prologa dei licenziamenti per i lavoratori. Area vasta Catanzaro-Lamezia. Questo è un sogno che stenta a diventare ancora realtà. Parla questa mattina Celi. Pino Celi, consigliere di Bene in Comune, che rilancia il progetto dello sviluppo coordinato di quest'area. Bisogna ripartire dai parti sottoscritti. C'è la giusta cornice. Poi vedete Celi si riferisce alla elezione di un catanzarese e di un lamettino ai vertici della Giunta e del Consiglio regionale. Che in qualche modo potrebbero spianare la strada al progetto. Spostiamoci proprio alla mezza terme. Parliamo di piano strutturale e comunale. Ancora un rinvio. Nessuna modifica. Tutto slitta l'11 febbraio. Nonostante le pressioni di speranza per avviare l'adozione del piano, la discussione viene rimandata lasciando spazio alla visita del prefetto. E poi vedete la Tella. Dobbiamo riconquistarci da soli la libertà senza fare affidamento solo sulle forze dell'ordine. Dimensionamento scolastico. Siamo sempre alla mezza terme. Si va verso l'indirizzo artistico, soluzione vicina al classico. Il consigliere Roberto annuncia la possibilità di un plesso dell'Istituto Campanella nella zona di San Biasi con il liceo coreutico. L'ottico viene invece accorpato al professionale. Vibo Valencia, giudiziaria in primo piano per quel che concerne la città di Luigi Razza, tentò di uccidere la prozia e il figlio. Audienza il 23 febbraio. Questa è la decisione del GUP. Secondo il PM della DDA di Catanzaro, il duplice di un stato omicidio sarebbe stato commesso dal 26enne Giuseppe Mancuso in concorso con il padre. E poi l'Imanarte, ancora la manifestazione in primo piano, selezionati gli artisti vincitori. La premiazione è prevista per la giornata di sabato. Da Vibo sulla piana di Gioia Tauro. Caso De Masi, i banchieri tutti assolti perché non c'è reato. E' uno dei processi in cui l'imprenditore di Rizzico ne aveva portato in aula i manager dei maggiori istituti di credito calabresi accusati di usura. Cronaca adesso. La cronaca adesso ci porta a Tauria Nova perché finisce in manette. Luigi Zito in casa è stato trovato con 10 grammi di erba. Queste le cronache del garantista. Dal Regino, che concludiamo con la Locride, chiesti 12 anni per Cherubino, processo falsa politica, arriva la requisitoria. Il PM de Bernardo ha invocato la stessa pena anche per Antonio Commis, presentando un conto di 71 anni complessivi per i 7 imputati. Il magistrato antimafia è stato chiaro, c'è totale identificazione, in questi casi, tra andrangheta e politica. Qui vedete le richieste. Sono 12 anni di carcere per Cosimo Cherubino e Antonio Commis, 10 per Damiano Rocco Tavernese e poi 9 anni di carcere a testa per Rocco Tavernese, Domenico Commis, Rocco Commis e Giovanni Verbeni. Fin qui il garantista di nuovo sul quotidiano del Sud. Adesso per vedere insieme le cronache regionali. Ripartiamo proprio dalla politica. Vedete il titolo. Questa mattina ancora in primo piano la vicenda lanzetta, che è tutta da chiarire. Oggi le dimissioni del ministro, ma restano senza risposte i rilievi del sottosegretario del Rio. L'attacco del pezzo firmato da Adriano Mollo, formalmente si dimetterà oggi, poi Maria Carmela Lanzetta se ne tornerà a fare la farmacista a monasteraggio, come aveva minacciato Constitza una settimana fa. A chi le chiedeva se il PD l'avesse comunicato lo sfratto dal governo, avesse un pizzico di sfrontatezza in più, potrebbe anche prendere tempo e aspettare le elezioni del nuovo Presidente della Repubblica, che ha potere di nomina su proposta del Presidente del Consiglio, ma non è nelle corde dell'ormai ex ministro a puntare ai piedi e fare melina da questa vicenda. Chiaramente però la Calabria non ne esce bene e la responsabilità non è della Lanzetta, ma di chi, tramando all'interno del Palazzo della Politica, ha giocato sulla sua pelle. Giallo dunque su chi è informato del Rio per quanto concerne il caso de Gaetano. Da lì è scoppiata la polemica. Sempre da questa pagina del Quotidiano, andiamo a leggere questa mattina le dichiarazioni di Flora Sculco, non bisogna perdere altro tempo, la consigliera chiede di insediare subito le commissioni alla Regione. E poi qui le reazioni, vedete gli alleati puntano i piedi, Oliverio allarghi il governo, Alt dai socialisti e da Centro Democratico incarnato chiede un incontro sui contenuti. Le cronache calabresi del Quotidiano ci portano adesso ad Amantea con la cronaca in apertura, titolo a tutta pagina, le fiamme funestano il carnevale, incendio doloso, divora i carri allegorici, allarme nella città tirrenica, l'episodio segue di qualche mese le intimidazioni subite da sindaco e giunta. Poi usura, cadono le accuse contro i vertici bancari, vedete che erano stati tirati in ballo dall'imprenditore De Masi, questa è una notizia che già vi avevamo dato poc'anzi. Operazione Medical Market, andiamo a Castrovillari, la madre si difende, poi crolla, non è riuscita a completare l'interrogatorio davanti al GIP, la donna accusata di aver ucciso il suo bambino di sette mesi per intascare i soldi dell'assicurazione, lo scrive stamattina proprio Francesco Mollo sul Quotidiano, vedete l'occhiello in alto, e poi l'attacco del pezzo, magra, capelli neri, lunghi e ricci, sguardo spaisato, è stretto in un giubbotto scuro, tanto da sembrare meno curata di come è descritta in questi giorni. Così si è presentata Stefania Russo, ieri mattina all'udienza di Convalida del Fermo, aveva cominciato a rispondere alle domande del giudice per le udienze preliminari di Castrovillari, ma poco dopo ha smesso per un crollo psicologico, ha spiegato il suo avvocato Fabio Salcina di Corigliano. Nei prossimi giorni chiederemo, ha poi detto, un nuovo interrogatorio, perché la mia assistente intende continuare a chiarire i fatti. Niente differenze tra clan e politica, e qui vedete siamo alle condanne per oltre 70 anni di carcere, il PM ha chiesto 12 anni per l'ex consigliere regionale Cosimo Cherubino, invocata anche la condanna per Antonio Domenico e Rocco Commisso. Le elezioni avrebbero portato alla rottura nella cosca, dunque a Siderno non c'era praticamente distinzione tra l'attività della politica e quella della drangheta. Ancora dal quotidiano del sud, rimaniamo in ambito giudiziario, perché si parla di Catanzaro Calcio, i calciatori battono casa e si profilano nuovi pignoramenti, il pubblico ministero, lodi arbitrali truccati, da Firenze arriva una nuova bufera, 5 gli indaganti per favoreggiamento. Le cronache vibonesi del quotidiano, ripartiamo dalla vicenda ASP, perché un pensionato si scaglia contro i dirigenti, hanno lauti stipendi, ma cosa fanno? Ci risiamo, 6 mesi per un esame, per un'ecografia addominale si deve attendere fino al prossimo mese di luglio, l'ASP di Vibo Valencia. Poi le altre notizie, partiamo dal processo Ragno, fissato l'appello nell'ambito del procedimento contro il clan Soriano, il 28 maggio 2014, c'è stato il verdetto, 6 assoluzioni, 2 condanne, l'accaduto del vincolo associativo. Ora bisognerà vedere se queste condanne verranno confermate in appello. Elezioni comunali, Adamo chiede aiuto, Adamo in aiuto di Giamborino, si va verso le primarie del PD, Talarico da Forfè rinuncia, non vi sono le condizioni per proseguire, il politico Cosentino chiede il sostegno di Pasqua per le primarie del centro-sinistra. Dunque Nicola Adamo corre in soccorso di Pietro Giamborino, il più volte consigliere assistere regionale, accoglie la richiesta di aiuto dell'ex collega Palazzo Campanella, si schiera al suo fianco in vista delle primarie di coalizione per la scelta del candidato a sindaco del capoluogo del centro-sinistra. Fin troppo preoccupato, evidentemente, dall'ascesa nei consensi di Antonio Loschiavo, il notario vibonese attorno al quale si sta compattando giorno dopo giorno grandissima parte del PD locale, in vista della consultazione del prossimo 22 febbraio, Giamborino in corsa per campo democratico, chiesto e ottenuto il sostegno di Adamo per evitare una probabile debacle elettorale, tant'è che l'ex consigliere regionale vibonese non avrebbe escluso al momento neanche l'idea di ritirarsi dalla stessa competizione per affrontare le future amministrative della primavera, tutte in solitaria, candidandosi a sindaco della città fuori dal partito e con il solo appoggio di alcune liste e civiche. Lo scenario è in evoluzione. Poi cambiamo argomento, rimanendo su questa pagina, andiamo alla scuola a Buccarelli, perché alcuni alunni ieri mattina sono stati lasciati a casa, all'interno troppo forte l'odore di disinfettante, deratizzazione, la scuola non chiude, all'indomani anche la disinfestazione, l'istituto è rimasto aperto, la rabbia dei genitori, da diversi mesi la struttura visitata dai topi. Processo regno, ve lo dicevamo poc'anzi, Soriano, per il clan Soriano, la pelle è stata fissata il 24 febbraio prossimo, in primo grado due condanne e sei assoluzioni per i componenti del sodalizio. E poi la morte di Elisa Arena, ricorderete la giovane morte in un incidente stradale, è stato rinviato a giudizio a tre persone, questa è la decisione del GIP Gabriella Lupoli. Il piano neve c'è, i soldi meno, ieri vertice in prefettura, presentato alla presenza dei sindaci e dei comuni maggiormente esposti, dunque il piano per l'emergenza maltempo predisposto dalla provincia, è però condizionato dal dissesto. L'incontro qui nell'ufficio territoriale del governo con il prefetto Giovanni Bruno, i suoi collaboratori e il dirigente della provincia, Giacomo Consoli. Ancora dalle pagine del quotidiano, spostiamoci ora nel Catanzarese, parliamo di Ndrangheta, sotto scacco soprattutto le attività economiche del quartiere Lido, le mani del clan sulla città, ricostruiti gli episodi criminosi, commessi in atto e per conto del clan Grande Aracri. Forza Italia, politica, tutti zitti, siamo sempre a Catanzaro, partito silente, in attesa di una riorganizzazione sul territorio. Se ne parlerà anche nel prossimo coordinamento. Da Catanzaro ci spostiamo a Soverato e qui, come potete vedere, si parla di casa della salute. Avanti tutto, è arrivato il parere dell'autorità nazionale anticorruzione porre fine al precontenzioso di un'azienda esclusa. Questo il principale obiettivo, la mezza terme, di nuovo il piano strutturale, ennesimo rinvio, anche nella giornata di ieri, con 17 voti favorevoli, 9 contrari, la salute del Consiglio è slittata. Il prossimo 11 febbraio, cronache del quotidiano del Sud, diamo a Reggio Calabria, lotta al crimine organizzato, l'unità per arginare l'Andrangheta, vedete come aziende e associazioni anti-racket si sono riuniti insieme alla Camera di Commercio con l'obiettivo di finanziare alcuni progetti. Area grecanica regina, Rocco Buetti per sfidare il PD, riunione animata, la scelta lascia scontenti, gli altri aspiranti alla poltrona. Dalla tirrenica alla grecanica, spostiamoci a Palizzi, niente tasse per le vittime di mafia, la criminalità organizzata richiede interventi articolati per la sua prevenzione, o chiede l'aggiunta alle esenzioni dei tributi locali per chi ha riconosciuto lo status di vittima della mafia. L'Ocride, preso a Roma in latitante mollica, e poi qui vedete il nascondiglio era stato ricavato nel sottotatto dell'abitazione del Fuggiasco, l'uomo era sfuggito da cattura degli agenti della squadra mobile Piana di Gioia Tauro, sempre nel Regino, rimaniamo perché arriva l'ergastolo per i cugini Giacobbe, per il delitto di Arcangelo Paella del 2013, queste le richieste del Pubblico Ministero Buccarelli, l'uomo venne ammazzato nel pieno centro cittadino di Gioia Tauro, quindi non arriva l'ergastolo, ma queste sono le richieste del PM Buccarelli. Sempre per quel che concerne i giornali calabresi, ora ci spostiamo sulla provincia di Cosenza, apertura questa mattina dedicata alla clinica nella Bazzia, Pignanelli, braccio destro di Oliverio, dichiaro il falso per farla accreditare. In alto alcuni richiami dalla prima pagina che andiamo subito a vedere insieme, partiamo da Corigliano, Stefania Russo crolla davanti ai giudici, questo è l'interrogatorio nell'ambito dell'operazione Medical Market, la donna accusata di aver abortito per riscuotere l'assicurazione a Mantea, incendiato il capannone dei carri di Carnevale, nuovo allarme nella cittadina Tirrenica, poi dall'altra parte del Cosentino, sulla Ionica Acri, Tassi, il sindaco risponde alle proteste dei cittadini. Pagine interne del garantista, qui di nuovo vedete il fatto del giorno, la bazia sotto la lente di ingrandimento, il braccio destro di Oliverio a San Giovanni in Fiore, si scatenò a un puttiferio, Pignanelli dichiarò il falso per consentire l'accreditamento della San Giovanni De Paoli e fu promosso da Oliverio alla provincia. E qui ancora, il comune di San Giovanni chiuso gli occhi, non partirono, scrive appunto la provincia di Cosenza, indagini rispetto a questa vicenda, solo i 5 Stelle agitarono un po' di casino. Caro sindaco, le lobby sono dentro l'Amaco, inchiesta ovviamente del giornale diretto da Carchidi, come bus gratis per il lungo fiume, le fiere incidono sui conti, i soldi risparmiati li pagheremo per salvarle, la Commissione non ha dubbi, ecco le scelte politiche che hanno creato perdite. Amantea, incendiati i carri di Carnevale, i malviventi conoscono bene la struttura, in passato registrati altri furti, ha piccato il fuoco al capannone, l'intervento degli operai ha evitato il peggio. Cosenza, una città senza identità, e qui vedete il titolo, la deriva della città dei Bruzzi, prima della nuova colata di cemento, il senso di Mario per la neve, critiche al sindaco Chiudo per il modo in cui ha gestito l'emergenza maltempo, il Movimento 5 Stelle perde le staffe con Morra, rompe gli indugi e protesta vibratamente la provincia di Cosenza, virgolettato d'apertura, lavoriamo per salvare il paese, il sindaco di Acri interviene sul malessere per le tasse da parte dei cittadini, intanto vedete, assemblea per raccontare storie di ordinaria disperazione, non riusciamo più a pagare e mangiare, dicono gli abitanti di Acri. Ancora Ionio, Cosentino, vedete il crollo emotivo della Russo, nell'inchiesta Medical Market, illegale, le accuse sono tutte da dimostrare, faremo ricorso al Tribunale della Libertà, dallo Ionio al Tirreno, quell'ospedale senza personale, siamo a Paola, risolto il problema della farmacia oncologica, la chemioterapia riprende a pieno regine, ma mancano medici ed infatti, infermieri all'ospedale di Paola. Quasi in chiusura di questa prima parte, vi proponiamo le principali notizie sportive della giornata, tornando sulle pagine del quotidiano del Sud, andiamo a vedere insieme, soprattutto i fatti calcistici, in vista della prossima domenica di campionato. Partiamo dalla Serie B, con il Crotone, che ha un Cremonesi in più, titolo a tutta pagina, è rientrato dopo sei mesi dall'infortunio, il giocatore ora ha detto che bisogna confermarsi con il Carpi, il difensore è stato tra i migliori contro il Latina, ed è felice, sia per la prestazione che per la vittoria. Nolè e Radosevic sono gli obiettivi di mercato, Lavellino piomba però su Dezzi, Cosenza un blocco da superare, in Coppa Vola la squadra Abruzzi, ma in campionato soffre, servono serenità e più fiducia in se stessi, squadra in ritiro a Roma, aspettando la lupa, la lupa Roma ovviamente, Caccetta è ancora in dubbio per quella partita. Regina, piage all'esterno, Armenise, alla formazione dello stretto, il presidente Voti sta cercando di convincere il calciatore della Paganese, intanto ieri l'attaccante Balistreri, ha firmato e si è allenato con il gruppo Catanzaro, a chiudere le cronache sportive, Munard e Mancuso, questi sono ovviamente gli obiettivi della squadra dei tre colli, il trequartista francese arriva dalla serenità, ma l'attaccante è la cittadella, il direttore sportivo Ortoli, continua a lavorare su Ingretolli, Rigione intanto va verso Perugia, fatti di sport che come ogni mattina chiudono, la prima parte della nostra rassegna stampa, noi ora ci fermiamo qualche minuto, spazio al meteo e alle nostre rubriche, poi di nuovo in studio per la seconda parte, con l'analisi delle prime pagine, vi aspetto, a tra poco. Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet, per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizia. Grazie. Grazie.